Che beffa per Cristiano Ronaldo. Nonostante il portoghese si sia portato a casa lunedì il terzo pallone d'oro della sua carriera, ha dovuto affrontare una triste realtà. L'idolo di suo figlio non è lui, ma il suo cerrimo rivale Lionel Messi. Ecco l'incontro tra i due in occasione della cerimonia di Zurigo, durante il quale Cristiano Ronaldo Junior è rimasto senza parole di fronte al fuoriclasse del Barcellona. Come l'avrà presa il papà? Come l'avrà presa il papà?